Buongiorno a tutti, sono Fabio Poli, volevo fare un grande auguro a tutti i tifosi della Lazio e questo 118esimo compleanno e anche la Lazio stessa come società che veramente è diventata una cosa spettacolare da vedere come squadra e vi auguro come società possa diventare ancora più grande e vi ringrazio tutti per sempre per la vostra gentilezza nei miei confronti, tifosi siete veramente meravigliosi e vi auguro tante belle soddisfazioni da questa Lazio, tanti auguri ancora e ciao e buona giornata a tutti. Auguri alla Lazio per i suoi 118 anni di una storia bellissima che continua ad essere sempre più bella, auguri a tutti i tifosi della Lazio, un grande abbraccio e forza Lazio sempre! Oggi è una ricorrenza speciale per tutti noi Laziali, il 9 gennaio è nata la nostra amata Lazio, ne approfitto per fare gli auguri di buon compleanno alla mia amata Lazio e ne approfitto anche per mandare un abbraccio grandissimo a tutti i tifosi biancocelesti! Forza Lazio! Auguri Lazio 118 anni di onore, di gloria, di vittorie, di trionfi festeggiati nel miglior modo! Ciao ragazzi, per me è stato un onore poter indossare la maglia della Lazio, poter vincere insieme a voi, combattere insieme a voi e quindi faccio veramente tanti tanti auguri alla Lazio. Un abbraccio a tutti, ciao! Ciao a tutti, sono Davo e vi faccio tanti auguri a tutti i Laziali per i 118 anni della Lazio. Un abbraccio! Eccoci, vai Gio Gio Gio, tanti auguri grandi a Lazio! Sempre forza, sempre sempre forza, Lazio! 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 Grande papà, un bacione a tutti, ciao, saluta papà! Grande Lazio! 118 e non le dimostri la Lazio mia, sei ancora una pischella. Che ti posso augurare? Che ci possiamo augurare? Ci dobbiamo augurare tutto il meglio possibile, tutto il bene che può uscire fuori da questo grande amore. I Laziani ieri sera c'erano, mi sarebbe piaciuto esserci, ma non potevo, credetemi, in questo momento non posso. Però vi sono filmati, emozionanti, emozionantissimi. Beh, quella gente merita tantissimo. Come merita tantissimo la squadra e Inzaghino, che ci stanno dando tantissime soddisfazioni. Quindi mi auguro tutto il bene possibile per il popolo biancazzurro, perché ce lo meritiamo un po' tutti. Buona fortuna Lazio! Buonasera a tutti i Laziali, voglio farle arrivare gli auguri per i 118 anni, al Presidente, alla società, a sui tifoseria. Un grande abbraccio qua da parte mia dell'Argentina. E niente ragazzi, sempre forza Lazio, la miglior squadra di Roma. Ciao ragazzi! Buon compleanno alla Lazio e ai suoi magnifici tifosi da parte di Beppe e segnava sempre lui. Ciao, buon compleanno e 118 anni di grande storia! Sono Mattias Almeida, di Guadalméxico, vi auguro alla Lazio una bellissima giornata, tanti auguri e un saluto enorme al popolo naziale. Ciao! Ciao, comandiamo forza Lazio! 118 anni, auguri a tutti i tifosi del cuore del Ruben Sosa e del Montevideo. Un abbraccio forte e ci vediamo a Roma. Un abbraccio forte! Feliz cumpleanno! Tantissimi auguri di buon compleanno a questa società che mi ha fatto crescere come uomo, come persona e come calciatore. Ringrazio sempre a Dio per aver fatto una scelta giusta quando sono arrivato. E pure complimenti a tutti quei tifosi che da 118 anni ad oggi hanno seguito questa emozione, questa pazzesca società. e vi ringrazio per tutto quello che mi hanno fatto vivere dentro e fuori il campo. Vi saluto a tutti e sono Lucas Castromann. Dall'Argentina, grazie ancora! Buonasera a tutti, volevo approfittare di questa giornata speciale per salutare tutti gli amici e tifosi Laziale e fare i miei migliori auguri per la nostra grande amata Lazio per i suoi 118 anni di storia. Tanti saluti, un abbraccio e sempre forza Lazio! 9 gennaio 2018, buon compleanno Lazio, sempre nel cuore! Un abbraccio a tutti i tifosi Laziali, ciao! Tanti auguri a tutti i Laziali! 118 anni è una... sì, è un lungo tempo! Vi auguro una bella festa e vi mando tantissimi auguri da Germania! Thomas Doll, Forza Lazio! Ciao ragazzi! Faccio tanti auguri alla Lazio che oggi compie 118 anni. Ringrazio la tifoseria, la società e tutto il mondo Lazio per avermi dato la possibilità di indossare la maglia più prestigiosa e più importante della capitale. Grazie da Willy Stendardo e tanti auguri! Ciao ragazzi! Buonasera, sono Hernanes, ho giocato nella Lazio da 2010 al 2014 e volevo fare anche io gli auguri. Auguri alla Lazio, auguri ai tifosi per i tuoi 118 anni. Orgoglioso di fare parte di questa storia. Abbraccio! Grazie a tutti!